Sette mesi fa nella biblioteca di questo stesso palazzo, sede milanese molto smart della Società Internazionale di Ricerche GFK, avevamo realizzato una puntata di Smart City dal titolo Che cosa si aspetta chi arriverà in Expo? GFK infatti è sponsor ufficiale di Expo 2015 con cui ha iniziato a collaborare fino al 2007 per stimare i numeri, i bisogni e le attese dei visitatori. Allora i tornelli si erano appena aperti e i dubbi erano parecchi Ora che si sono chiusi da un mese o poco più proviamo a tirare un bilancio, a guardare un po' oltre